Guarda qui, guarda il gol di Pulisic, vedi? Ah, Erdbo messo così, con la mano destra sulla sciarpa, vabbè, lo segno. Bravo, e guarda invece il raddoppio di Okafor. Cosa c'è? Non vedo niente. Avevi un piede alzato, il sinistro per essere precisi, eh? Ho fatto bene a riprenderci durante Mila a Lazio, per vedere se la nostra scaramanzia può funzionare. Piede, sinistro, alzato. Quindi tu dici che il merito di quella vittoria è il mio piede e non la prestazione dei ragazzi. Della prestazione più il tuo piede è il mio tocco di sciarpa, certo. Certo. Più che altro dobbiamo sistemare la tua pipì perché stavolta non abbiamo segnato mentre eri in bagno. Senti, io capisco che è divertente questa cosa della scaramanzia e io ti assegundo con piacere perché sotto sotto tutti un pochino ci crediamo. Io ti sono grato perché a meno così evitiamo di spendere soldi per il mio cugino Salvo, il portafortuna. Però non esagerare come al tuo solito. La pipì a volte può funzionare e a volte no. Probabilmente perché, come ti ho detto l'altra volta, la minzione deve essere spontanea e non indotta dai 5 birre. Va bene, lo dici tu. Guarda, intorno al 65esimo c'è stata un'occasione molto pericolosa per noi, ecco, guarda, poco prima del tuo rutto. C'è del potenziale in questa cosa, dovresti rifarlo. Per capire. Sta diventando bello vedere le partite con te. In pratica il mio ruolo è pesciare e ruttare, complimenti, eh, sempre più ghiacciato ci devo diventare. Uno schifo, veramente. Ci manca solo di andare di corpo e l'abbiamo fatta tutto. Perché non l'abbiamo provato? E il mio cugino Salvo? Che rispondi? Oh, cugino, come stai? Eh, ah, sei in Italia? Certo, stasera, vediamoci come. Guarda, giusto giusto gioca il Milan. Viene accennato da me, certo. Ma con piacere, certo. Ci vediamo stasera. Ma grazie a te, non deve portare niente. Panza in presenza. Ciao, ciao. Quindi stasera viene salvo? Sì. E per i soldi? Non ne vuole, viene gratis. Se si vede la partita con noi. Ma tu sai che significa questo, vero? Sì, che posso andare in bagno tranquillamente. Sì, a parte questo. Cosa dobbiamo dire? Che abbiamo la vittoria in tasca. Ah, complimenti al Borussia per il passaggio dei gironi e per la vittoria della Champions. Le basi, eh. Le basi.